ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video extra dove estraremo il vincitore del vlog numero due ovvero del contest per il raggiungimento dei 400 iscritti al canale avete commentato davvero in tanti e per un canale di 400 iscritti fa più che bene utilizzeremo questo sito esterno dove ho inserito il link per estrarre casualmente il vincitore del contest premendo infatti sul pulsante andiamo a vedere chi è oh zio red allora zio red andiamo a vedere adesso chi è il fortunato vincitore del contest che vincerà 35 euro presso bigfoot bologna cliccando sul nome andiamo adesso a vedere se è andato nei commenti sia commentato esatto il commento c'è e il nome su facebook è marco galli quindi ora andiamo a vedere chi è questo quindi potete andare su facebook a insultarlo per la vittoria andiamo a vedere se ha messo il like alla pagina e infatti c'è il like alla pagina c'è e per ultima cosa andiamo a vedere ovviamente se è iscritto al canale youtube ed ecco qua zio red ovviamente non posso controllare se è stato messo il like alla pagina di facebook di bigfoot ma mi accerterò comunicandoglielo personalmente complimenti al vincitore e grazie a tutti gli altri per aver partecipato ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao